Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di OneFootball Ok, in questo nuovo video di OneFootball vi dirò tutte le partite di oggi Ok, Coppa Sudamericana, Deportivo La Guaira, Emelec 4-2, Benfield San Lorenzo 2-0, Blooming Junior 0-2, Real Garcilaso, Palestino alle 22, Serie B Sampaio Correa, Hawaii 1-2, Brasil Atletico Goianiense 0-1, Londrina Goias 0-1, CONCACAF Champions League Gruppo 6, Alianza Antigua 1-1, Gruppo 3, Vancouver With the Cups Sporting Kansas 3-0 Gruppo 5, Pachuca, Police United 3-0, J League, Avispa Fukuoka, Jubilo Iwata 2-3 Afficci Champions League, Seoul, Shandong Luneng 3-1, El Jaish, Al Nasr Dubai 0-3 Liga Supermala Asia Sarawak Selangor, Kelantan Kedah, Terengganu Pahang 1-1 Eh scusate, non ho detto i risultati Sarawak Selangor 1-1, Kelantan Kedah 1-2, Terengganu Pahang 1-1, Fida United Jor Darul Takzim 2-3, PDRM PD 1-2, Perak Penang 4-1, Ledman Liga Pro Uniao Madeira Penafiel 0-0, Accademica Portimonense 0-0, Gil Vincente Viseu 0-0, Porto B Olanense 2-1, Vizela Benfica Lisbona B 1-2, Sporting Covila Sporting Braga B 1-3, Farmalicao Sporting Lisbona B 1-0, sono tutte e due in corso 1-1, Liga Katowice Zha Glebje Sonsuor Week 0-0, Miezo Legnica Uigri Suwalki 0-1, Podle Skidzie Koznicze 0-1, MKS Sandeccia Novisax Gornig Zabzre 2-0, MKS Znikz Prukzov Stomilol Zin 0-1, Wizela Pulawi Krovri Glogov 1-2, Tiki Olimpia Grudziag 1-1, Pogon Siedise Klux Bork 1-0, sono tutte in diretta 2-1, Puczar Polski, Piasso Gluivise, Lechia Gzangs alle 18, Premier Social League, Blom Fonteit, Celtics, Mariburz United Football Club, Orlando Pirates, Lamonville Golden Arrows, Platinum Stars, Supresport United, tutte 0-0 e tutte in corso 2-1, Supercoppa Skanderbeu, Kukesi 0-0 in corso, League Cup, Accrington, Stanley, Barnley, Fulham, Middlesbrough, Morecambe, Bournemouth, Sunderland, Westbury Town, tutte le 20.45 2-1, Champions League Qualifying, Apoel Nicosia, Copenhagen, Borussia Mönchengladbach, Young Boys, Red Bull Salzburg, Dinamo Zagabria, Rostov Ajax, Manchester City, Steaua Bucarest, tutte alle 20.45 Torneo Apertura, Sport Boys Awareness, Blooming, Rinviata Ok, queste erano tutte le partite di oggi Quindi se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi e lasciate un like Ci vediamo, ciao a tutti 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 Grazie.